Clinton è una figura importante della politica americana e non solo, per la semplice ragione che è un innovatore che sa unire il filone, come possiamo dire, moderato della politica non solo americana e quello invece innovatore e progressista della tradizione democratica. Di fatto innova soprattutto perché riesce a trovare la cosiddetta terza via insieme a in Gran Bretagna e la loro corrente di pensiero, che è quella delle riforme con apertura sociale molto forte, alla fine è una svolta innovativa nella politica internazionale. A lui va questo debito, quello di avere trovato una possibilità diversa laddove invece il recinto dei partiti sembrava ormai fissato tradizionalmente.